E bentornati e benvenuti qui su GoItalia, noi siamo come sempre Go! E ci siamo eh! A parte che ci dobbiamo un attimo curare Se vede la mazza eh! Potevi per... Mettere un cazzo indicatore non sarebbe stato male però eh! Ok Ecco! Cosa? 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 Eccoci qua, maledizione no testi testi i'm going to need more reverb i'm getting no bounce out here We need to be ready to protect them questa roba già vista sono ripresi Svelte? non sono ripresi Svelte? non sono ripresi Svelte? sono ripresi vabbè piccolo fail, vai eh vabbè non sta a capire niente però oh porca miseria oh 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 No, 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 no. L'ho letto a caricare, però. Arriva. Che finale tamarro, però. Vabbè, mi sta... Avevo capito già che era così. Temevo, però. Mi piace molto gli americani. Va bene, va bene. No, è che ciazza. Eh, ho capito. L'ho porto. Merda. La fa più aggressivi, li contacci loro. Ragazzi, stanno. No. Eccoli. Merda. Mamma mia. Eh, ho capito. Sono un po' troppi, però. Eh, ho una mano, però, con... Eh? Con le armi, no. Sono io in mezzo, con una cretina. Finalmente Alan o chissà? Chissà. Infatti ci mancava un episodio di Alan, non c'è capito. Eccolo qua. Eccolo qua.